Tutto è partito da un sogno, creare una scuola sicura dopo i traumi dei recenti terremoti che avevano colpito l'Abruzzo, riconsegnare ad una comunità scolastica la possibilità di sognare. Il progetto di adeguamento antisismico della scuola media Capograssi ha previsto un sistema di protezione considerato tra i più innovativi ed efficaci, il sistema delle torri dissipative, ma si voleva integrare e comunicare con forza al contesto esistente questa realizzazione, le torri dissipative, come potente invito a riaprirsi al futuro. L'arte, nel linguaggio più vicino ai giovani, quello dei murales, è sembrata il mezzo ideale per trasmettere questo messaggio. Le cinque monumentali strutture che si innalzavano intorno alla scuola apparivano come formidabili superfici sulle quali dipingere immagini, ma soprattutto aspirazioni, sogni, visioni. Così è nato DREAMS, un progetto e una chiamata agli artisti per dare forma a questa suggestione. La risposta è stata importante. Giovani presenze e autori significativi della street art, ben 34 da tutta Italia, hanno accettato la sfida. I cinque artisti vincitori, scelti da una selezione di 17 finalisti, hanno investito con la forza delle loro utopie le strutture antisisma della scuola. Una fantastica esplosione di arte e di emozioni. Cinque immensi dipinti, cinque opere diverse e coloratissime che parlano di futuro, respingono la rassegnazione, tracciano orizzonti nel presente ritrovato della scuola. Un esempio inedito ed eccellente di fusione tra arte urbana e una nuova tecnologia antisismica che apre ulteriori prospettive per il domani. Oggi i murales delle torri dissipative della scuola Capograssi, con il segno di cinque protagonisti tra i più vitali della street art italiana, formano il nucleo di una singolare collezione di opere che si aggiunge al patrimonio artistico della città per proporsi al pubblico e al turismo culturale. Un vero e proprio parco dedicato alla street art, dove questo linguaggio dell'arte potrà essere scoperto ed esplorato. Il sogno realizzato di una scuola più sicura oggi vibra forte e grazie ai murales ci dice che è tornato il tempo di continuare a sognare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.